E' arrivato a Napoli e ha fatto tappa in comune l'ex alpino e paracadutista Alessandro Bellier che all'età di 83 anni si è cimentato in una prova davvero impegnativa attraversare l'Italia a piedi da Osta a Palermo passando per tutte le regioni e i 110 capoluoghi di provincia una traversata di circa 6.000 km ma Bellier, fisico da sportivo e ancora in forma, non è nuovo a questo tipo di sfide E' una sfida che è stata programmata per poter parlare con questi giovani parlo specialmente i giovani delle medie di fare sport così se uno fa sport non beve, non fuma e non si droga però devono dedicare leggermente meno tempo sia al computer che allo smartphone poi parlo anche con i diversamente abili e questa è una cosa un po' toccante però per me è una cosa grande e poi parlo anche per gli anzianotti di 60 anni che passano tutto quanto giorno a fare una partitina a carte al bar bisogna fare sport, sport che è talmente bella poi noi abbiamo un'Italia talmente bella che è un peccato Partito da Aosta il primo aprile scorso, il tour prevede 190 tappe della durata media di 30 km e si concluderà a Palermo il 24 ottobre in occasione del suo compleanno Alessandro Bellier ha incontrato questa mattina in sala giunta il vice sindaco Raffaele Del Giudice che gli ha consegnato una medaglia della città Lo abbiamo accolto con grande piacere in modo particolare ne sono contento per lo spirito, per il messaggio anche ai ragazzi il futuro non come minaccia ma un futuro davvero come progetto di vita questo è importante in questo momento ai nostri giovani camminare, stare insieme, riscoprire le nostre città insomma con tanto entusiasmo è davvero anche un modo per socializzare per far conoscere poi la bellezza della nostra città grazie grazie